allora parte 2 della guida dunque ti mostro il menu adesso e come funzionano come funzionano le meccaniche guardando il menu ok ti spiego le stats ti spiego cosa servono com'è la difesa come funziona tutte quelle cose lì le affinità e lo scaling delle armi allora la roba che mi sono dimenticato prima l'aggiungo adesso sul moveset e la gameplay allora il lock il lock è mega importante perché se tu vedi spostanti a destra a sinistra ti tiene locato il bersaglio e tu ti giri intorno anche quando schivi vedi non perdi di vista il bersaglio per spostare il lock da un pg all'altro c'è un tasto che non so qual è sulla tastiera però sulla play insomma sul controller è destra a sinistra quello analogico una volta che è locato ti sposta tra i vari bersagli visibili allora maggior parte delle volte locca sempre il 90 per cento dei casi può succedere che certe volte ti conviene anche colpire deslocato ok perché magari se c'hai tipo due o tre nemici insieme uno di fianco all'altro non sai bene quale ti locca è sempre meglio direzionarti tu e tipo per dire se ne hai tre davanti ti metti così li becchi tutti e tre con la sciabolata orizzontale quindi sta a teli un attimo decidere il lock non lock per imparare ti consiglio sempre di tenere loccato comunque al cento per cento poi ci sono alcuni nemici che hanno più punti di lock tipo i giganti hanno le due gambe e la testa la testa non la becchi neanche se sciopi perché sono alti sono altissimi le gambe puoi passare da una all'altra capito come e anche la schivata c'è la schivata se sei slocato è in qualsiasi direzione tu miri praticamente mentre se sei loccato cioè è diverso vedi ecco comunque capirai giocando passiamo al menu allora ti ripeto il menu non è una pausa in sto gioco quindi ti scavesse non ti metti il menu mentre stai facendo robe quindi devi già organizzarti prima ok allora equipaggiamento era più importante come ti dicevo prima 1 2 3 slot per la mano destra 1 2 3 slot per la mano sinistra 2 dardi per la balestra se ne hai due tipologie diverse due frecce se vuoi portarti due frecce diverse per l'arco invece frecce arco dardi balestra armatura i quattro pezzi di armatura il posto per gli accessori che ti danno dei bonus e questi sono gli oggetti come ti ho detto prima nei 10 sono quelli consumabili discorri nel menu di gioco quelli in basso lì vedi quello lì ok allora passando alla schermata di quella centrale che ti dà le informazioni su cosa hai selezionato allora per quanto riguarda le armi qui abbiamo il nome dell'arma qui abbiamo la tipologia dell'arma che ti serve per sapere ad esempio se vuoi fare il dual wield con le doppie armi devi vedere che queste siano della stessa categoria identica spada curva con spada curva taglio è la tipologia principale del danno dell'arma perché c'erano le armi da taglio le armi da botta e le armi da piercing da perforazione tipo le lanciano ognuna dei vantaggi degli svantaggi questa è il nome della skill speciale quindi nella scenario di guerra il costo della scenario di guerra primario e secondario perché sono due attacchi di fila il peso dell'arma tra chili ok qui c'è la potenza di attacco qui vedi effettivamente il danno che fa l'arma ok allora il primo numero questa roba è importante per capire come funziona perché magari uno si domanda perché fai pochi faccio pochi danni allora il danno è dovuto da sta roba qua allora queste sono le varie tipologie di danno ok fisico magia fuoco fulmine sacro questa ovviamente è una spada normale e quindi tipo fa solo danno fisico di taglio allora il primo numero sulla sinistra è praticamente il danno base diciamo dell'arma ogni arma ha un danno base diverso ok più veloci sono le armi generalmente è più basso il danno perché fanno più colpi nello stesso tempo classico dps ok danno per secondo e poi trovi un più e il numero qui a destra invece è dato dallo scaling cos'è lo scaling è praticamente la tua abilità la tua abilità a usare quell'arma lì per dirti come fai a vedere praticamente questo numero qui è dovuto ok alle tue stats mentre il primo numero non è dovuto alle tue stats non c'entra niente non è vincolato è semplicemente un danno dell'arma base il secondo numero qua sulla destra invece è un numero dato dalle tue stats quindi più alte sono le tue stats quindi forza destrezza ok in sto caso e più alto sarà questo numero ok allora questa è un'arma livello zero cioè iniziale e a livello zero poi ci sono delle pietre di forgiatura che ti permettono dai fabbri ok di potenziare le armi quindi le armi andranno a più 1 più 2 più 3 più 4 le armi normali arrivano fino a un massimo di più 25 ok mentre le armi speciali arrivano a più 10 come massimo cosa serve aumentare potenza dell'arma dei fabbri è la roba più forte nei souls e anche in elder ring perché aumentando la potenza dell'arma dei fabbri aumenta il danno di base e può essere che aumenti anche il percentuale di scaling dell'arma quindi più un'arma diventa più un'arma però ti dico allora come fai a capire quanto cioè come aumentare il numero qua sulla destra perché questo abbiamo detto che è fisso è in base tipo al livello dell'arma quindi 106 al 0 metti che se aumenti al più 1 va a 110 al più 2 va a 113 per dire e via così questo però magari ti rimane sempre a 16 come fai a capire come funziona allora questo è lo scaling dell'arma quindi l'arma scala di potenza in base alle statistiche che ci sono scritte qui sotto quindi ogni arma ha uno scaling che può comprendere una due o tre stats primarie 2 in questo caso qua dove c'è scritto l'ignita significa che non scala nessuna di queste tre statistiche qua quindi non scala in intelligenza non scala in fede e non scala in arcano e scala in forza invece è in destrezza ok e che cazzo vuol dire di cazzo vuol dire di di praticamente è l'attributo diciamo la percentuale con cui ti scala in forza cosa significa uno scaling in d è un po' indicativo però agli scaling ci sono s a b c d e è ovviamente il più scarso poi c'è d dopo c'è c dopo b a e s ok s è il massimo uno scaling di d è praticamente quasi in fondo alla scala di potenza quindi significa che ti dico numero approssimativo però tu prendi la tua statistica di forza che in questo caso è 10 ok e uno scaling di metti che ti dà tipo il 10 per cento ok quindi tu prendi la tua statistica 10 e il 10 per cento di 10 è uno quindi qua avrai un più uno forza ti dà più uno ok stessa roba con destrezza ok destrezza mi da tipo un 10 per cento per dire della mia stazza principale ok quindi io in destrezza ho 16 il 10 per cento di 16 è 1,6 quindi avrò 1 più 1,6 e viene praticamente fuori sto numero qua ok adesso non sono il 10 per cento ti sto dando delle informazioni a caso però è tanto per farti capire che se qui la destrezza mi scalasse tipo in a ok al posto di darmi il 10 per cento di scaling con destrezza mi darà tipo il 50 per cento di scaling o il cento per cento o l'ottanta per cento quindi di 16 tipo per dire mi da 16 o mi da tipo 14 capito quindi più alto è lo scaling verso a o s e più è alto sul numero qua quindi tu per dire questa spada qui scala uguale sia in forza che in destrezza però tendenzialmente è un'arma da destrezza la scimitarra come lo è la katana quindi più più la livellerai con le p3 del minatore più andrà su di livello e più vedrai che forza rimarrà su di e destrezza diventerà c b e via così capito perché ovviamente dopo ti scalerà con la tua stazza principale che è destrezza in sto caso di scalare lo stesso comunque anche un pochino in forza però meno che vuol dire che se tipo io adesso mi metto 50 punti su destrezza ok qua il numero andrà tipo a più 56 per dire ok invece mi metto 50 in forza qua andrà a più 26 capito quindi tu devi se vuoi aumentare il danno che fai con l'arma devi guardare queste che sono le statistiche di scaling ok quindi per ora a sto livello dell'arma ok che è ancora zero non cambi un cazzo se tu aumenti forza o destrezza per far più danni però ti dico già dopo questa quando le livelli ti darà più risultati con destrezza e questo è il danno quindi sarà sempre danno fisso dell'arma più danno dello scaling questa è solo fisica ci sono certe armi che fanno danno misto quindi un po fisico e un po magico scaleranno un po tipo per dirti magari con destrezza e un po con intelligenza e via così critico invece è praticamente la percentuale di danno critico che fai quando fai un un colpo critico quindi quando gli sbusi la pancia con l'arma o quando rifai il backstab da dietro che non ti stanno vedendo i nemici sempre col colpo debole li colpisci e li sbusi e li generalmente li copi ma se no li fai una sbolla di danno più a più alto è la percentuale di critico e più alto è il danno che li fai perché già li fai un botto di danno in più dell'attacco normale se in più hai il critico alto gli sversi per dirti questa 100 è standard 100 i pugnali hanno tipo 120 130 quindi vuol dire che fai tipo il 20 per cento il 30 per cento in più di danno con un colpo critico è una sboldra e questo è la potenza di attacco dell'arma questo invece riguarda la difesa ok in questo caso io adesso ho inquadrato la scimitarra quindi mi dirà le statistiche di difesa delle scimitarra tu dici che cazzo servono servono perché come ti ho spiegato prima se tu le impugni a due mani puoi difenderti e questi sono praticamente il danno ok che neghi quando stai parando con quest'arma allora questo incremento difesa in fondo è praticamente il più alto è questo valore e meno stamina ti consuma quando ti stai parando 25 è molto basso quindi vuol dire che ti pari ma ti consuma una fracca di stamina se ti pari con quest'arma perché è leggerino fisico è il danno fisico quindi di base se uno ti attacca con una spada normale e tu ti pari con la tua scimitarra ti pari e se lui ti fa 100 di danno tu praticamente ti difendi per 40 e ti becchi solo 60 di danno questi numeri qua sotto sono la stessa cosa identica solo che questo se uno ti spara una magia praticamente ti pari solo del 30 per cento se uno ti fa una roba col fuoco ti pari solo il 30 per cento e così via per ogni elemento ogni arma e ogni scudo è una roba diversa esempio se adesso metto lo scudo e seleziono lo scudo ok come vedi danno fisico di questo scudo è 75 74 quindi riduce molto ok rispetto a chi difenderti con l'arma gli scudi medi e grandi generalmente ha una difesa fisica del 100 per cento quindi se tu ti pari non ti fa niente se uno attacca con un'arma esclusivamente fisica un'arma normale invece uno ti spara una magia come vedi già vai al 43 per cento anziché al 74 quindi ti beccherai molti più danni se uno ti spara una magia e tu ti pari questo scudo rispetto a che pararti un colpo normale perché ovvio gli scudi proteggono sempre di più dai colpi normali rispetto che dei colpi speciali ecco l'incremento difesa come vedi è più alto perché ti consuma meno stamina parare con uno scudo che con un'arma e fin qua ci siamo no allora stravo qua dello scaling è molto importante perché ti fa capire come aumentare i danni che fai guardare sempre qua tipo tu prendi un'arma nuova te la metti su vedi che scaling destrezza buong vuoi far più danni aumenta destrezza con quell'arma lì scaling fede vuoi far più danni con quell'arma lì devi aumentare fede buong anche questo molto importante ultima roba qua nella colonna centrale gli attributi richiesti cosa significa che tu per poter brandire quest'arma ok devi avere almeno queste stats che ci sono scritte qua la scimitarra per usarla devi avere 7 di forza e 13 di destrezza come vedi 7 di forza ce l'hai e 13 di destrezza ce l'hai quindi puoi usarla tranquillamente se non avessi le stats richieste ti vengono fuori i numeri in rosso e fin che non le raggiungi non puoi usare l'arma cioè tu la puoi equipaggiare però fai tipo due danni cioè proprio non fai zero danni quando attacchi quindi fa schifo non puoi usarla e qui ci sono gli effetti passivi in questo caso sono zero perché è un'arma basica però qua ci possono essere veleno sanguinamento freddo sono tutti bonus che che infligge i nemici con delle armi speciali ok qui è il livello del tuo personaggio al momento al 12 nel mio qua vabbè che ci ho fatto due livelli le rune che è in possesso e ora ti spiego le stats allora anche queste mega importanti cioè scaling scaling ok attributi richiesti questi un po meno cioè sarà un po più nel dettaglio ok però scaling e e le stats sono mega importanti allora vitalità praticamente questa ti manda sugli hp allora è super importante perché perché questi sol sono giochi che i nemici tendenzialmente se tu sei a livello giusto per quella zona lì con due tre colpi massimo ti ammazzano quindi tu cosa devi fare nei soli devi sopravvivere e la roba più importante non è far tipo 30 di danno in più perché hai cinque punti in più di forza per dire ok o di destrezza sulla tua arma l'importante è piuttosto vivere un colpo in più tanto a te tirare un colpo in più non te ne frega un cazzo però se gli altri ti ammazzano con un colpo e lì sì che te ne frega e poi fare anche 150 danni con un colpo ma se non se non uccidi il boss e li ti uccide con un colpo non hai neanche tempo di curarti per quello ti dico la vitalità è importantissima allora la praticamente tecnica per iniziare i souls e non trovarsi in difficoltà quindi giocare in maniera tranquilla è innanzitutto portare aumentare la vitalità allora io consiglio per la prima zona di portare subito la vitalità a 20 ok per la prima parte del gioco le prima le prime due soglie da raggiungere sono vitalità 20 e poi le stats che ti permettono di brandire l'arma che ti piace che vuoi usare che hai al momento ok magari adesso è sulla scimitar ma ti trovi altre armi ti piacciono vuoi brandirle ok ti tiri su al minimo queste che ti servono ok e guarda ti faccio un esempio qui ho preso altre armi vedi per terra vedi qua mi dice non puoi usare quegli attributi attuali perché mi richiede 16 in forza mettiamo che tu vuoi usare sta arma no ok vedi ti richiede 16 in forza e 10 in destrezza e ti scale a d e d perché ti dico di non aumentare tanto le stazze di danno all'inizio perché le armi all'inizio fanno tutte cagare di scaling finché non le potenzi saranno tutte d d c d d d c quindi per quanto tutti aumenti la destrezza ok o la forza c'è questo numero qua di fianco va su pochissimo all'inizio capisci cosa intendo quindi la tecnica qual è per prima roba portarti sulla vitalità a 20 ok dopodiché inizi pian piano a lavorare sulle stats dell'arma che ti interessa quindi se vuoi se te non ti piace questa è tipo adesso vuoi brandir questa ok inizierai a portarti sulla forza un po alla volta fino a 16 stop stop ci sono caratteristiche più importanti l'inizio da portar su rispetto a quelle di danno che sono appunto la vitalità e un pochino di tempra che è quella che ti permette di portare più roba e in più ti aumenta la stamina quella barra verde quindi puoi far più robe quindi se tu inizia la nuova run di eldon ring e vuoi tipo cioè non ti serve a nulla tipo non toccarne anche la vitalità e lasciarla tipo al minimo e portarti sulla destrezza al 30 cioè hai fatto una gran cazzata perché danno che aggiunge l'arma che non è potenziata è pochissimo quindi occhio a queste due un pochino ma prima di tutto vitality cioè tu quando hai la vitalità a 20 hai già praticamente il gioco diventa molto 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 più facile capito quindi mi raccomando fai sta roba e vedrai che ti troverai bene se no continuerai a morire sempre detto questo allora vitalità importantissima mente e ovviamente dopo quando vedi che i nemici iniziano a shottarti è il momento che di portar su altri 5 punti di vitality prima di portar su il danno e mi raccomando su ste robe mente è praticamente sono la barra blu quella degli mp allora più ne hai e più ovviamente mpi e basta non fa nient'altro mente quindi se tu sei un milì o un mezzo ibrido le aumenti pochissimo mente se sei un milì puro le lascia anche a 12 al minimo è vero che mente le usi per fare le skill le cenari di guerra usano mente quindi usi la barra blu se devi usare le skill speciali dell'arma però ragazzi 12 è già un buon punto di partenza nel senso che dipende da che cenare usi ma ne fai tipo la fai tipo 4 5 6 volte anche capito prima di usare una boccetta quindi voglio dire massimo ti porti una boccetta blu e quindi te la fai tipo 10 12 volte tra una grazia e l'altra però non è che giochi solo quel cenari di guerra e quindi questa non serve a niente se non fai un caster ok però anche per dirti io che faccio i caster 25 26 non è che la porta 80 tipo non serve un cazzo non serve a niente non le userai mai sono punti sprecati tempra invece tempra è abbastanza importante tempra ti aumenta la barra verde della stamina come ti ho detto che è quella che ti permette di parare correre schivare e attaccare quindi più tempra e più attacchi puoi fare consecutivi più puoi schivare tutto in più ti aumenta il carico massimo equipaggiabile che è questo qui vedi al momento è 49.8 il massimo mio ok se io qua vado ad aumentare tempra mi si alza sto numero qua andrà a 51 53 56 60 e via dicendo ok ti spiegavo l'altro giorno che se tu stai sotto il 30 per cento del tuo carico massimo sei in carico leggero quindi significa che fai le schivate mega agili ok in più hai una sboldra di frame di invincibilità quando schivi quindi e vai mega distante quindi è molto più facile a giocare col carico minimo ok come fai a giocare in carico minimo o ti cavi tutto o ti cavi tutto ti cavi l'armatura guarda perché ogni pezzo vedi ogni pezzo pesa 2,7 7,7 2,6 4,8 vedi carico minimo vabbè adesso sullo spadone che pesa 9 kg ma se no puoi tenerti su qualcosa vedi e stare in carico minimo allora non aver paura nel senso che voglio dire adesso ti spiego anche la negazione dei danni ma se tu sei in carico minimo è ovvio che se ti colpiscono ti fanno un po più di danni ok perché non hai tanti pezzi di armatura ma ti colpiscono molto meno spesso se sei in carico minimo rispetto che sei in carico medio quindi valuta sta roba le due opzioni per carico minimo sono o ti cavi via roba e ti porti solo roba leggera tipo doppia arma fa un culo che cazzo me ne frega ne uso uno lo scudo non lo carico e le braghe me le tengo vediamo tipo questi posso mettermi e forse la testa no il resto aspetto nudo ho comunque un po' di armatura su però sull'incarico minimo perfetto guarda che rotolate che fai in carico minimo guarda qua non ti sposti guarda in carico medio adesso vedi molto meno molto meno in più e meno frame di invincibilità dopo ti spiego cos'è se invece vai carico medio è dal 30 per cento del tuo peso massimo al 70 per cento il tuo peso massimo se sfori 70 per cento adesso ti mostro basta che ti carichi su una carga da roba vedi va in carico pesante se sei in carico pesante guarda che roba tipo mossa cavaliere se hai una cavra nel rotolare hai pochissimi frame di invincibilità ok è stata te la scelta più armatura e più lento o meno armatura e più veloce io carico minimo è la roba più forte del suo cioè fai un cazzo delle armature c'è carico minimo è troppo forte mi dispiace c'è schivi tutto hai un sacco di invincibilità quando schivi comunque va bene torniamo alle stats allora ti stavo dicendo tempra è importante per sta roba quindi o ti cavi roba oppure aumenti la tempra a un certo punto vedrai che avendo aumentato la tempra puoi permetterti di usare degli abiti normali non armature mega pesanti ovviamente però un'armatura completa normale e comunque stare in carico minimo però non investire troppi punti in tempra mi raccomando c'è è una stats che va portata tipo 16 20 massimo dopo più avanti ma non esagerare forza forza e destrezza sono la stessa cosa sono delle abilità di attacco ok che che praticamente ti mostra ti ti aumentano lo scaling delle varie armi quelle che scalano in forza quelle che scalano in destrezza quelle che scalano in tutte e due semplicemente sono uguali solo che alcune armi scalano di più in destrezza altri in forza non hanno nessun altro tipo strano cioè non è che sei destrezza sei più veloce come pensava ali all'inizio no non cambia nulla forza e destrezza sono solo questa cosa qua unica aneddoto per la destrezza è che ti aumenta anche la velocità di casting degli incantesimi leggermente però leggermente basta invece forza non ha nessun altro assi invece forza ha una cosa che destrezza non ha l'unica altra cosa è che tu praticamente quando brandisci un'arma a due mani ok come ti dicevo prima nel video precedente e praticamente la forza dello scaling dell'arma viene moltiplicato di 1,5 solo per la forza però quindi se tu hai tanta forza e la brandisce a due mani hai un aumento considerebole di danno mentre destrezza non fa sta roba solo forza la fa però destrezza ha il vantaggio che ti aumenta leggermente la velocità dei castigli e delle magie torniamo a qui intelligenza è un'altra stazza di danno un'altra stazza di danno funziona allora questi cinque qui sono semplicemente delle stazza di danno ovviamente come per le armi ti serve un tot di forza e un tot di destrezza per brandirle per le stragonerie ti servirà un tot di intelligenza per usarle e gli incantesimi che sono quelli della fede stessa roba ti servirà un tot di fede per poterli usare inoltre le armi che scalano in intelligenza ovviamente più intelligenza ha e più danno fai di scaling e in più gli scettri che sono quelli che servono per castare le stregonerie scalano non su forza e su destrezza ovviamente ma su intelligenza stessa roba per la fede uguale solo che stregoneria è stregoneria e fede è incantesimi sulla stessa cosa solo che questi sono un po più d'attacco questi sono comunque d'attacco ma hai anche buff e robe varie cure e anche robe varie ok e ci siamo anche sull'intelligenza e fede ricordati che se vuoi usare un incantesimo e tipo ti richiede 15 in fede devi avere 15 in fede sennò non puoi usarlo ok intelligenza per le stregonerie si usano gli scettri e gli incantesimi invece di fede si usano i talismani questi li devi usare nelle mani li devi brandire su una mano quindi uno scettro su una mano tipo sulla mano destra potrei castare le magie sulla mano destra un talismano sulla mano sinistra di fede potrei castare gli incantesimi con la mano sinistra di fede arcano è una stazia un po particolare e un po stramba allora ci sono cose che scalano su arcano di danno ok che sulle cose un po più particolari le robe un po più esotiche esoteriche arcano è anche la stazia che regola quanto veloce puoi infliggere gli status tipo avvelenamento sanguinamento sonno tutte quelle robe di ok e come abilità tra virgolette secondaria tipo quella di forza che se prendi l'arma due mani ti aumenta il danno che fai arcano anche praticamente più alto è l'arcano e più aumenti la possibilità di che nemici ti droppino gli oggetti perché ogni nemico ha un tot di oggetti che ti può droppare alcuni hanno più chance diciamo di di dropparti altra meno per dirti i cavalieri lì della piazza dell'inizio ti possono droppare qualsiasi pezzo della loro armatura lo scudo e anche l'arma ok quindi possono dropparti qualsiasi pezzo che hanno e tu dopo quelli te li puoi equipaggiare se hai arcano alto hai più possibilità di droppare gli oggetti però non è che se tipo tu hai 20 di arcano ti droppano il doppio ah un cazzo più aumenti l'arcano e più aumenta la scoperta che è questa vedi io ho 9 di arcano quindi ho 109 100 il minimo quindi sono a 109 se io mi metto l'arcano a 99 andrò a 199 e avrò il doppio di possibilità di adesso di droppare gli oggetti però perditi un drop base è un 4 per cento 5 5 6 per cento quegli drop normali quindi con questa non va con arcano a 99 mi andrà all'8 per cento quindi non stava aspettarti che sti aumenti l'arcano tipo a 30 inizia a droppar tutto no un cazzo i drop comunque rimangono rari però vabbè ti aiuta e basta punti vita punti attacchi punti magia ok vigore è semplicemente la stamina quella verde basta slot in memoria e due sono praticamente quelli hai solo due slot al momento per incantesimi o per stregonerie che poi diventeranno 10 12 non mi ricordo man mano che prendi degli oggetti particolari che dopo ti dirò stabilità cos'è la stabilità praticamente la stabilità è la tuo stare continuare ad attaccare quando gli altri nemici ti allora sta meccanica è importante in elden ring più hai stabilità e più i nemici quando ti attaccano non ti interrompono mentre tu stai attaccando ok allora se tu vedi guarda la stabilità vedi adesso è a 12 se io faccio per mettere questa questa armatura mi va a 29 invece mi vado per mettere questa che è una che mi ha droppato i cavalieri lì che è un'armatura da cavaliere ovviamente va più alta va a 35 quindi tu quando avrai tutti i pezzi di un'armatura tipo di ferro ovviamente vai la stabilità a 45 a 48 così ok mentre se ti metti tutto il set di questo che è pelle e tela ovviamente la tua stabilità sarà meno non sarà 30 35 ok ci sono delle soglie che ovviamente adesso io non è che sto a dirti perché tanto non te la ricorderai di stabilità in base perché ogni arma fa un tot di danno di stagger si chiama ok il danno di stagger implica quanto ti stoppa diciamo quando stai attaccando adesso con 13 mi stoppa anche un perché ovviamente sono mezzo nudo ok quindi ho basso stabilità se uno mi attacca con un coltello e io sto facendo così mi blocca mi ferma e mi colpisce lui e dopo devo ripartire con l'attacco se però tipo io questa stabilità la porto già tipo a 30 per dire i coltelli non ti bloccano cioè ti colpiscono ok però non ti interrompono il tuo colpo tu li attacchi lo stesso ovviamente più l'arma è grossa che ti colpisce e più ovviamente stabilità ti serve allora avere una stabilità di 51 ok ti permette di tankare tra virgolette la maggior parte di colpi del gioco ora 51 di stabilità è una bella stabilità devi avere un'armatura di acciaio molto pesante cioè abbastanza pesante devi avere una bella tempra e ovviamente non puoi andare in carico minimo ok quindi sì per quello ti dico personaggio destraezza sì bello però è un personaggio attacca e fuggi oppure ti scavesso dei dps e tu anche se mi colpisci amen ok verrai staggrato molto e dirai dio camo non riesco a far niente porco dio perché hai la stabilità bassa e stai usando un'arma del cazzo ok se invece tu hai un'armatura pesante e un mega mazza gigante dio caro non è che ti stoppano quando stai attaccando scavesci tutti in modalità berserk ovviamente ok quindi questa molto importante tienila sempre all'occhio ok passiamo a la difesa adesso invece allora io premo triangolo nella schermata principale mi cambia la schermata di destra vedi lì cazzo però la telecamera davanti spero di non averla avuta adesso che mi viene in mente per tutte le robe che ti ho mostrato comunque vabbè qua si vede quasi tutto dai dopo le robe sotto si ripetono allora non so se f sul devi premere f quando si entra al menu per cambiare sta schermata comunque equipaggiamento questa è quella di base che hai vedi tu premi triangolo o f non mi ricordo comunque dopo guardi ti cambia la schermata lì a destra passi dalle stazze normali e le stazze di difesa allora questo è il tuo ratio di attacco dell'arma che hai la prima arma sulla mano destra come vedi dex 1 122 è il tuo danno infatti se tu guardi hai praticamente 106 di attacco base più 16 è il tuo scaling quindi diventa 122 in alto a destra ok come ti ho detto 106 più 16 fa 122 questo è il tuo attacco dell'arma della scimitarra destra 2 hai il pugno che fa 23 perché non hai niente destra 3 pugno di nuovo qua pugno perché non hai niente qua sul secondo slot hai lo scudo lo scudo ha 74 perché puoi anche attaccare con lo scudo è volendo il scudo fa 74 di danno puoi potenziare anche gli scudi certi scudi fanno un bel po di danno si attacchi e ovviamente sempre meno delle armi però ok quindi questo è il tuo danno quindi tu quando tiri una spadata fai 122 di danno al colpo ovviamente questo è il colpo base dopo fai il colpo caricato con quello forte fa più danno come funziona la difesa in elden ring allora il primo numero è la difesa ok è la difesa effettiva questo numero aumenta semplicemente livellando più più livelli e più si alzano questi numeri questi sono la difesa di base ok ti faccio un esempio il nemico ti attacca e a 122 di danno metti anzi a 100 di danno mettiamo il nemico che ti tira una spadata quella sua arma tu di difesa fisica hai 79 quindi cosa significa prima si guarda la difesa fisica quindi fai 100 meno 79 ok beccherai 21 danni della spadata che ti tira il nemico perché la tua tua difesa è 79 ovviamente se io qua metto no con questi non aumenta scusa boh beccherai 21 danni e questa è la difesa base si aumenta solo livellando livellando le varie statistiche ti aumenta il vedi che proprio ti va su da questi primi numeri qua quando livelli andrà da 81 83 e via così questi sulle varie difese rispetto a tutte di vari attacchi quindi fisico da impatto fisico taglio fisico perforazione magia fuoco fulmine sacro come vedi sono diversi se uno mi attacco magia mi fa meno danni rispetto che se mi attacca con fisico questo numero cos'è il secondo numero invece questa qua è la negazione la negazione è la percentuale di danno che praticamente viene ridotta dalla tua armatura quindi questa è la tua armatura questo è una difesa fissa che aumenta man mano che livelli ritorniamo all'esempio di prima il nemico mi fa 100 danni un attacco fisico io la mia difesa 79 prendo 21 danni però ho una negazione del 7.5 per cento quindi dovrò fare 21 21 per praticamente 7,5 per cento e mi viene fuori di quanto mi riduce quei 21 danni lì quindi praticamente questa qua ti riduce il danno del 7.5 per cento il danno che ti è passato oltre la tua difesa normale quindi come prima roba c'è la tua difesa normale dopodiché il danno che avanza viene ridotto della percentuale che c'è scritto qua quindi 7.5 poi quindi fa conto un attimo perché ho matematica 0 quindi 21 ok di danno 7.5 vabbè in sto caso di 21 ti cava praticamente il 1,5 quindi ti va a fare praticamente 19,5 vabbè non serve ovviamente che fai i calcoli ogni volta però è per farti capire che se io tipo qui ci metto boom questa e poi ci metto questa vedi che ora qua adesso non mi riduce più il 7.5 del 21 che è passato qua mi riduce il 21 per cento del 21 che è passato qua quindi da 1.5 mi passerà a 4 capito quindi 21 meno 4 fai praticamente 17 anziché 19,5 ovviamente qua ti sto parlando di valori bassi però se inizi tipo a prendere un colpo da 500 di danno qua te ne cava 79 e dei 400 e passi che rimangono il 20 per cento ho capito quindi quindi come hai visto la somma delle armature il numero che vedi qui a destra è la somma di tutti i pezzi di armatura di negazione più pezzi di armatura potente hai e più negazione hai che sono questi mentre questa purtroppo non la puoi cambiare e ti aumenta semplicemente livellando quindi più livelli e meno danni prendi tra virgolette perché questa è la prima tua difesa le cose qui in basso che ora non vedi però forse resilienza sì vabbè comunque sono funzionano nella stessa maniera ma sono per gli status anormali immunità ti serve per sangue e freddo robustezza ti serve no scusa immunità ti serve per veleno e marcescenza scarlata robustezza ti serve per sangue e freddo concentrazione ti serve per sonno e sonno e follia e mentre la resilienza ti serve per morbo mortale basta questo è il menu e una cosa che non ti ho mostrato è che gli armature come vedi questo è la schermata dell'arma io ho spiegato prima come fate invece stuva nella schermata dell'armatura è diversa qua ti dirà la resistenza dei danni che ti fa questa armatura è la negazione dei danni quella che ti ho spiegato che è sulla destra quindi 2,8 la testa 12,9 il busto 2,3 il guanto e 5,4 i piedi la somma è questa è la negazione ok basta qui avrei gli accessori che vabbè ora non hai ancora visto e basta diciamo che queste sono le cose principali le build build che ti vuoi fare e allora se tu inizi a guardarti le build in giro in internet semplicemente ti dicono dove andare a prendere i pezzi e tu ti fai la build come ti dicono loro ma se tu segui le mie linee guida e praticamente ti porti sulla vitalità quindi che sono gli hp come prima roba ok e dopo ti inizi a portare su le statistiche di attacco però un po alla volta perché è sempre meglio potenziare l'arma finché non hai le armi decentemente potenziate lo scaling che vedi è pochissimo ok le build dopo dipende dalle armi che trovi delle armi che trovi in giro e quindi delle armi che vuoi usare cioè dirti che build fare adesso simo significerebbe dirti dove andare a prendere le robe in giro per la mappa e la tipologia di gioco che ti fanno fare quelle armi di però ti dico intanto gioca va avanti esplorare tutto l'imgrave troverai delle armi troverai degli accessori troverai dei boss delle robe prova vedi se ti trovi meglio con le scimitarre se ti trovi meglio con le spade dritte devi provare devi provare tutto e dopo quando vedi che c'è una cosa che ti piace come che funziona come funziona mi dici cazzo mi piacciono gli spadoni bon ti dico una build per gli spadoni ti dico cosa ti conviene livellare prima e cosa ti conviene livellare dopo e via così però comunque come ti ho detto quelle restano le cose principali prima la vita a 20 e dopo le stats per brandire l'arma che ti piace al minimo così puoi usarla lo scaling è irrilevante all'inizio del gioco non serve a un cazzo tipo portarsi la stats principale le stats tipo destrezza a 30 non ti serve a una sega che dopo ti sciottano con un colpo quindi non ha senso lo devi giocare non devi fare tipo quei pochi danni in più quando le armi saranno potenziate al massimo o tipo quando inizieranno a essere più 15 più 20 più 25 e tu avrai la tipo per dire destrezza 50 60 70 era sì che ti fan scaling la perché le armi scaleranno in a b in destrezza e tu con 70 di destrezza ti aggiungi tipo 60 70 di danno a un attacco capito penso che per il momento è tutto cioè io ti consiglio di andare in giro per il cavallo e esplorare più che puoi guarda sempre dentro che ci siano delle scale dei forzieri uccidi i nemici che ti droppano le cose raccogli tutto quello che trovi per terra e prova le armi che raccogli ogni tanto guardi se vedi che hai delle armi nuove che puoi usare e c'è un'arma che raccogli che ti sembra che ti piaccia guardi le stats centrali gli attributi richiesti e guardi praticamente cosa cosa serve per usarla non fare un po smisciotto allora all'inizio i punti ti costano poco per livellare dopo iniziano a costarti un sacco quindi dopo ti ritrovi a tre quarti di gioco che hai mezze statistiche su tutto e non fai abbastanza danni perché non fai abbastanza scaling però parlo di metà gioco in poi quindi all'inizio poi c'è un po dopo prendi una direzione quindi o forza destrezza o destrezza solo o forza solo o forza fede o destrezza fede o destrezza intelligenza o destrezza arcano insomma sceglierai una strada in base a quello che ti piace di più però farti una build così a livello 10 non esige non c'è una build perché per fare una build devi comunque prima raccogliere tutti i pezzi quindi devi andare avanti col gioco ecco boh se hai altri dubbi chiedimi e basta fai bravo cia 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 adesso gioco iomphia questo è un altro video che vi ringrazio è il di nuovo no Grazie.